La sfida all'impossibile è il tema di questa edizione, la seconda a Rovereto, il grande sistema della ricerca dell'innovazione trentina in vetrina con una giornata e mezza già trascorsa, ieri con le imprese in un momento in cui sono state invitate a ragionare e a incontrare i nostri centri di ricerca e le nostre attività innovative con investitori e coloro che lavorano nell'ambito dell'innovazione qui in Trentino. Questa mattina sono rimasto piacevolmente colpito dalla partecipazione di scuole ma anche universitari, insegnanti ai momenti di incontro, di esperienza alle stand che hanno dato la possibilità di entrare in diretto contatto con chi lavora nella centri di ricerca e con il mondo dell'innovazione. È stato un momento positivo e che dimostra che la formula è indovinata e sta crescendo. Questo è per mostrare le capacità trentine di fare sistema, di creare in maniera positiva un mondo che sarà quello del domani, quello delle tecnologie nel quale il Trentino sarà al passo.